Un sistema innovativo per il monitoraggio e il contatto con i pazienti covid è stato realizzato a Forlì grazie a una donazione per noi Serena Biondini. Marisa, la mascherina dell'ossigeno la devi tenere, mi raccomando, la tiri su, via, brava, bravissima. Un sistema informatizzato che permette di essere in costante contatto visivo e telefonico con i pazienti covid in isolamento. Ospedale di Forlì, 25 letti monitorati, 17 nel reparto di malattie infettive, 8 nella pneumologia subintensiva. Sì, di cosa hai bisogno? Va bene, adesso arriviamo. L'obiettivo è ridurre gli accessi impropri nelle camere di pazienti altamente infettivi, evitando vestizioni e svestizioni superflue, ma soprattutto riducendo il rischio di contagio. Uno strumento di questo tipo permette all'operatore sanitario di vedere e sentire il paziente e riuscire a filtrare ogni sua richiesta, cosicché si possa decidere quanto è il momento opportuno per entrare nella stanza. La donazione dei sei rotari Romagna Centro è nata nel picco della pandemia, quando i sanitari non potevano ancora vaccinarsi, su suggerimento dell'ex primario di malattie infettive. Aumentavano enormemente i casi fra il personale sanitario, spesso con fatalità anche degli eventi. Quindi necessità di cercare di assicurare il massimo della salvaguardia del personale sanitario. Oggi il sistema garantisce anche una maggiore sicurezza per i pazienti. Questo virus molte volte li scombina, proprio a livello mentale. Per noi è importantissimo sapere di averli sempre sott'occhio.